Nel vuoto totale legislativo si sono viste togliere anche quegli strumenti, quegli escamotage che alcuni sindaci avevano adottato iscrivendo nei certificati di nascita dei bambini e delle bambine i nomi di entrambi i genitori. La prefettura e il ministero hanno bloccato questa possibilità e quindi scendiamo in piazza perché è l'ennesimo attacco a una categoria che è già discriminata e sprovvista di diritti. Anche da Arezzo alla volta di Firenze per scendere in piazza il grido di non un passo indietro. Regolare una situazione di fatto che esiste è qualcosa di civile e che nel 2023 dovrebbe essere così in tutti i paesi. Un presidio in piazza Santissima è annunziata per protestare contro lo stop alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Chiediamo in primis una riforma dell'adozione e quindi la possibilità anche per le coppie dello stesso sesso di poter accedere all'adozione e il riconoscimento alla nascita di quei bambini e di quelle bambine nati che esistono tramite fecondazione assistita o altri metodi e vivono nella quotidianità di tutti i giorni con due genitori ma di fatto burocraticamente ne risulta solo uno e questa è una mancanza di tutela. A far discutere poi anche la decisione della Commissione Politiche Europee del Senato di bocciare la proposta di regolamento dell'Unione Europea sull'omogenitorialità. L'ennesima dimostrazione è che non c'è alcuna volontà da parte di questo governo di tutelare bambini e bambine.